Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Excel e parleremo della differenza che c'è tra valori relativi e valori assoluti all'interno di Excel lo faremo attraverso un esempio per cercare di capire al meglio di che cosa stiamo parlando per questo esempio immaginiamo quindi di dover gestire un magazzino che ha al suo interno dei prodotti il prodotto A, il prodotto B, il prodotto C e il prodotto D e ognuno di questi prodotti viene prodotto in diversi modelli il modello T1, il modello T2 e il modello T3 come si legge questa tabella per ogni prodotto per esempio del prodotto A abbiamo 25 unità del prodotto A modello T1 11 unità del prodotto A modello T2 e così via quindi per il prodotto B abbiamo 45 unità del prodotto B modello T1 36 unità del prodotto B modello T2 e così via quello che vogliamo fare è andare a calcolare questi totali scriviamo magari la formula a mano quindi uguale perché tutte le formule di Excel cominciano con uguale e selezioniamo le celle scusate ho sbagliato ho premuto invio al posto che più quindi uguale B3 più questa subito sotto e quest'altra subito sotto premiamo invio per dire che abbiamo finito di scrivere la formula ed ecco il totale per farli tutti gli altri per farli in fretta noi sappiamo che utilizzando le serie possiamo trascinare l'altro totale questo qui l'ho fatto io tanto è lo stesso modo di prima l'ho fatto io per accorciare i tempi del video il punto qual è? noi abbiamo visto che possiamo fare il totale in un punto dove ci interessa per esempio questo qui nella cella B6 poi per farli in fretta attraverso l'utilizzo delle serie trasciniamo col quadratino e come vedete la formula è quella giusta perché in questo caso Excel riesce a capire il range delle celle che deve sommare attraverso le serie e sommarle come fa a capirlo attraverso le serie? lo capisce perché in questo caso stiamo utilizzando dei valori che sono relativi relativi perché sono relativi non so come spiegarlo bene nel posto dove ci troviamo in questo caso come vedete io sono nella colonna B quindi tutte le celle che devo sommare cioè queste sono relative alla colonna B se io mi sposto in questa in questa colonna qui la colonna C tutte le celle che devo sommare sono relative alla colonna C e quello che cambia sono solo le righe la riga 3 la riga 4 e la riga 5 la stessa cosa qui nella colonna D che cosa succede? quelle che io devo sommare sono solo i valori relativi appunto alla colonna D questa qua quello che cambia sono appunto le righe quindi la riga 3 la riga 4 la riga 5 per quanto riguarda il totale della colonna F quello che succede è che rimangono fisse le coordinate delle colonne vedete B C D E B C D E B C D E E avanti così e quello che cambia sono il numero della della riga quindi anche qua ci troviamo di fronte a dei valori che sono relativi cioè che hanno il range di celle i valori relativi sono caratterizzati da questa da questa cosa il range di celle è pressoché lo stesso può cambiare solo o la riga o la colonna adesso parliamo invece di quelli che sono i valori assoluti presenti in Excel lo facciamo con questo esempio qui abbiamo un listato di numeri da 1 a 10 in questo caso ma non importa potevano essere anche numeri in ordine casuale cioè numeri casuali poi 25 poi 11 poi meno 4 positivi negativi insomma quello non mi interessa noi vogliamo moltiplicare questi numeri per una costante in questo caso 4 ma potrebbe cambiare e vogliamo scrivere il risultato appunto di questa moltiplicazione nella colonna B che cosa vuol dire questo? che nella colonna B2 ad esempio ci sarà il risultato della moltiplicazione del numero 1 per la costante 4 nella colonna B3 ci sarà la moltiplicazione di 2 per 4 e così via proviamo quindi a risolvere questo problema nel modo in cui siamo abituati ci posizioniamo quindi su una cella dove vogliamo il risultato in questo caso B2 cominciamo scrivendo uguale perché le formule di Excel cominciano tutte con uguale e poi che cosa dobbiamo fare? moltiplichiamo in questo caso 1 che si trova nella cella 2 come potete vedere per la nostra costante 4 abbiamo finito di scrivere la formula premiamo invio come vedete il risultato è giusto proviamo però visto che abbiamo detto che si può fare più in fretta ad utilizzare le serie e vediamo che cosa succede teoricamente Excel dovrebbe calcolare i nostri risultati possiamo vedere però che questa volta c'è qualcosa che non va perché il primo numero quello che abbiamo scritto noi a mano è giusto ma tutti gli altri cioè i valori per cui noi abbiamo trascinato la formula come vedete sono tutti sbagliati perché 2 per 4 non fa 0 3 per 4 non fa 0 e così via andiamo quindi a vedere nella barra della formula che cosa è successo per capire i nostri errori quindi il primo valore come vedete è giusto le celle moltiplicate sono A2 per i6 che come vedete sono A2 cioè il numero 1 per la costante 4 giusto andiamo quindi a vedere che cosa è successo negli altri valori questo qui come vedete c'è già qualcosa che non va perché Excel mi dice A3 per i7 che cosa è successo quindi utilizzando i valori relativi in questo caso anzi andiamo prima a vedere scusate il valore subito sotto che è A4 per i8 che cosa è successo Excel ha utilizzato i valori relativi adesso vediamo perché come vedete qui come risultato abbiamo A2 per i6 e qua come risultato qui scusate abbiamo A3 per i7 che cosa succede che Excel in questo caso ha visto che è una moltiplicazione perché glielo abbiamo detto noi abbiamo usato le serie quindi lui che cosa ha fatto la prima A2 per i6 la seconda ha 3 quindi ha cambiato la riga in questo modo è passata la riga a 3 per i7 che cosa vuol dire che Excel ha cambiato in automatico le righe che cosa vuol dire che si è spostato sotto di una di uno per tutti e due i casi quindi per il primo fattore che corrisponde a quelli della colonna numeri e per la cella costante vedete in tutti questi casi Excel ha scalato automaticamente trascinando con le serie ha scalato tutto di una posizione in questo caso A4 e siccome è sceso in A4 lui scende anche per i8 ed è proprio così che funzionano i valori relativi cioè Excel automaticamente mi scala il range di celle che considera vedete A5 ci siamo spostati di uno è giusto per i9 Excel ha scalato di nuovo Excel quindi si è comportato giustamente perché lui ha ragione come se avesse a che fare con valori relativi perché noi non gli abbiamo detto niente quello che dobbiamo dirgli invece è che il valore questa qua la costante 4 cioè il numero per cui tutta questa lista va moltiplicata rimane fisso in altre parole dobbiamo dirgli che è vero che quella che deve cambiare è la riga cioè deve rimanere fissa la colonna A e già lo fa in tutti questi risultati vedete che nella formula la colonna A rimane fissa e la riga cambia invece per quanto riguarda il secondo termine della moltiplicazione quindi la la colonna I che in questo caso è sbagliato come ha scritto lui quello che dobbiamo fare in pratica è dirgli che lui deve moltiplicare sempre per la cella I6 quindi la cella I6 deve rimanere fissa quindi lui mi deve scrivere che cosa A2 per I6 A3 per I6 A4 per I6 e così via e adesso vediamo come fare a dirglielo glielo diremo facendo capire ad Excel che la la cella I6 è un valore assoluto vediamo quindi nella formula e noi dobbiamo dirgli di bloccare la cella I6 dunque noi l'abbiamo scritta inizialmente nella cella B2 quindi lavoriamo qui in maniera da doverla scrivere una volta sola come faccio a dirgli che la cella in questo caso non la riga e non la corona ma la cella I6 deve essere un valore assoluto cioè bloccato quando io trascino cioè quando utilito le serie Excel deve sempre tenere ferma la cella I6 mi posiziono sulla barra della formula prima della cella I6 e premo il tasto F4 come vedete avendo premuto il tasto F4 Excel mi ha aggiunto in automatico questi questi dollari che cosa vogliono dire questi dollari vogliono dire appunto che la cella è bloccata in particolare dobbiamo essere un po' più precisi vedete che abbiamo un dollaro prima della riga che tra l'altro potete mettere anche a mano se mettete voi in questo modo guardate vi faccio vedere mettete sempre i 6 e vi mettete il simbolo del dollaro a mano prima della colonna e il simbolo del dollaro prima della riga stessa cosa praticamente questo vuol dire il dollaro che c'è prima dell'indicazione della colonna vedete in questo caso questo qui più a sinistra indica che la colonna ad essere bloccata il dollaro che c'è prima del numero della riga indica che è la riga ad essere bloccata quindi questi sono i valori assoluti ritrasciniamo quindi adesso la nostra formula corretta e come vedete i risultati sono giusti che cosa cambia rispetto a prima andiamo a vedere che la la riga cioè vedete le celle in questo caso del primo fattore cioè quelle della colonna A cambiano A2 A3 A4 A5 eccetera eccetera ma la cella I6 che è questa qua rimane fissa per tutti quindi è stato detto che la cella I6 è un valore assoluto per Excel cioè che rimane lì fisso ripetiamo ancora una volta velocissimamente allora mettendo il dollaro prima della colonna abbiamo detto che Excel deve bloccare la colonna mettendo il dollaro prima della riga abbiamo detto che Excel deve bloccare la riga quindi mettendo un dollaro prima della colonna mettendo un dollaro prima della riga anche attraverso il tasto F4 che fa in automatico noi abbiamo detto ad Excel che la cella I6 deve essere bloccata bene la prossima volta andremo avanti rifaremo un esercizio ancora abbastanza carino di questo tipo per capire come si blocca come si bloccano appunto le celle e poi vedremo che insomma mi dovrò far venire in mente non è così semplice un esercizio per capire i valori quelli che io chiamo ibridi cioè io posso decidere di allora in questo caso come vedete nella formula col dollaro ho bloccato sia la la colonna sia la riga ma io posso decidere che trascinando le serie la la colonna si è bloccata ma la riga no quindi scriverò così cioè non metterò il dollaro in questo caso non lo faccio che è sbagliato posso decidere anche che rimanga bloccata solo la riga 6 ma che le colonne trascinando con le serie possano continuare a variare quindi toglierò il dollaro prima della della colonna nel prossimo video faremo quindi ancora un esercizio dove la cella viene bloccata totalmente e poi guarderemo che capiremo che c'è anche questa possibilità di poter bloccare o solo le colonne o solo la riga bene io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate qualche commento come sempre lasciate un mi piace non mi piace lasciate critiche consigli perché si deve sempre migliorare vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale perché è importante per me per poter creare diciamo più contenuti di qualità e invece per voi succede che youtube vi avvisa se voi vorrete ogni volta che pubblicherò un nuovo video io vi saluto e ci sentiamo alla prossima ciao ciao ciao